a ora è 18 e 05 circa bare palermo ritorna a casa finisci di lavorare torna a casa aspetta a me bare palermo sta casa aspetta solo a te allegri allegri ragazzi ormai cambiato è finito ora per noi youtuber ci dobbiamo cervellare per fare video iniziare nel caccio mercato ora diranno 800 mila 9 il morata bis il morata bis ancora con sto morata capito ora poi ho sentito un'altra scambio di lorenzo di lorenzo con chiesa capito si io mi picchio una a 30 anni ti do chiesa a 26 come la chiesa a 40 quindi fanno tipo ti do chiesa più 20 capito si si seguiti si pedullà si pedullà pedullà punarronaro che fa youtube pedullà pedullà fa giornalista pedullà l'ha detto pedullà allora ascoltate ascoltate altro ragazzi ora c'è il caccio mercato ora diranno 850 mila notizie però alla fine alla fine poi magari io te l'avevo detto ci sono andato prima io ho la fonte la fonte di sto gran cazzo comunque andiamo in ordine allegri che cazzo della juventus allegriani com'era ma lui ama la juventus il mio mister capito se ero io 14 sono pochi non do 20 non volevo 20 non 30 ci devo prendere sotto la juventus ripeto voi siete allegriani ve l'ho detto sempre voi non ti fate juventus capito e chiede che fanno fatti video in passata hanno fatto buono guarda proprio allegriano lo stato puro ti fai allegriano o mai fallito ti fai juventus ascoltate ti fai juventus hai capito il tuo mister chiede no ma lui è più ventino di quelli allegri auto ha visto 14 milioni di euro vuole 14 milioni di euro buona uscita vuole stu catapasino 14 cazzo cito guarda magari fa parlare male 14 minchie cito non vuole 14 minchie va a tenere acqua va mamma mia da montecarlo è la camaretta bianca sicco sicco la minchia una nullità proprio cosa a cosa serve in questa vita lega a niente serve proprio a niente a che serve a lega cosa serve a lega in questa società a niente a buttare ansia a aver fatto figure di merda in tre anni con la juventus gioco noioso solomai sono etichettato con il cortomuso ma va fatta la mettere in culo tu e tutte le allegriano va 14 milioni era a montecarlo con cosa quel canna c'era fanfantino aveva visto la foto tutti gli amici e parenti pare che sono vatti vatti davanti tu manca una lira e poi se è vero veramente se c'è questa cosa etica nel contratto ti sei comportato male hai detto giunto le vattene via hai spaccato i cartelloni pubblicitari lambatine tutti quei spogliatoi da raro tu cosa hai fatto anzi io spero che l'olimpico così c'è va va devi pagare l'olimpico la società roma devi pagare hai fatto bordello guarda e chi lo direttore l'ottosporto guarda io ti devo correlare quella era la quella stufacchino guarda 14 milioni euro tutti i soldi da juventus c'è un problema juventus e ti pare che a juventus che c'è qua a cassa mutua basta lei che vattene a fangolo vattene la roba so dita la ritando la non capisci un cazzo addirittura va allenare nella super league la della roba so dita vattene va non rompere il cazzo allegri capito allegriane capito che sbagliato pure li no ma ma quello ammalai ci ha messo sempre la faccia guarda mannaggia a me pure io mi ero convinto sta cosa guarda mi sono detto vabbè ci ha messo la faccia in queste dalle guarda ma guarda per dartela contentino guarda allegri autissimo tutta la vita ma fatela mettere in culo guarda detto questo commento te l'allegriano appena c'è l'allegri pare che ci tocco suo padre, un suo fratello, non mi tocca il mio fratello, pare che io l'offendo ti fate Juve ti fa Juve perché sta prendendo i soldi nella nostra società ma che te ne fotte voi siete allegriani perché sapete che avete sbagliato ammetteteci, guarda io sono allegriano sbagliato, chiedo scusa va a tenere qua comunque detto questo via cancellato malegri però veramente spero che non ci dà manca una lira detto questo poi parliamo di la giornata odierna si stava parlando, anzi veramente da da questi giorni hanno buttato scambio di Lorenzo Chiesa parliamone, allora il nato di Lorenzo è un po' difensore là praticamente capitano di una mica si prende da Juventus già in Napolitania come i conti di Pia poi lo facevamo da parte i conti da l'altro là De Laurentiis no ma io se giunte sapevo che Juventino lo cacciavo via come? boh ti chiesto a manna e ti chiestero pure a Conte come De Laurentiis capisci niente perché capito? è perché sai come vince il conto vince Scudetto capito? dici tu ma lo vediamo piccato a Lucazzo il puffettone Lucazzo poi ripeto li dico in anteprima ma faremo un altro video a riguardo poi parliamo invece su Scambio ma ragazzi io su Scambio non lo faremo manca poi ma spero che sono fake news già siamo arrivati ancora manca giù dunque Cacciavo Mercato inizia a luglio già a fine maggio già parliamo lo Scambio di Lorenzo che si fa prima morata Tris si qua Tris si scuba full vatti vado a poche qui ma quale morata ma qua a posto di Chien Chien ma quando ma quale mora io mi chiederei te qui io mi chiederei te qui del Genoa a posto di Chien capito? quindi diranno tante cazzate comunque di Lorenzo Chiesa non lo farei mai guarda ma mettiamo caso che sia vera allora di Lorenzo come tezzino destro a noi manca tezzino destro perché poi molto farà giocare con 4-3-3 o 3-4-3 comunque no più o altro 4-3-3 gioca molto quindi cosa ho detto ci vogliono o c'è portiere ci vogliono i terzini buoni ragazzi o tezzino destro manca e quindi che poi sarebbe diciamo a posto di Danilo quello insomma comunque di Lorenzo potrebbe venire come ma guarda di Lorenzo quando è 20 milioni eh di Lorenzo 20 milioni a parte 30 anni 20 milioni è già su assai pure a parte da Transformarket è 18 quindi di Lorenzo 15 15 o 16 al massimo quindi però c'è la volontà di giocatore che se non andare e tutti ora le ha avvolto ci sono soprattutto Inter Juventus però dice per tu là la Juventus è in buon position ma perché chi lo vuole a Chiesa dicono ma Chiesa guarda una cosa posso dire se mettiamo che sia vera morta se non lo vuole perché tu dici non lo vuole perché non lo vede non è che non lo vede e perché come dico io perché come ho detto nei miei video semiprecedente meno male stanno lì in rete Chiesa paga praticamente perché non ha 90 minuti sulle gambe non c'è la notte ragazzi avrà se note mezzo tempo un tempo poi basta non ci fa più Chiesa ragazzi perché no non ci fa più sto fatto che ha avuto quest'operazione l'ha accrociato e fa sì che non è più richiesta di una volta allora è questo quando c'è ah quelle fiammate ma quando due le fiammate due reazioni dei quattro ma poi basta allora la motta dice aspetta è meglio che me ne prenda uno buono tipo zigzag capito capito cosa vuole fare però a difesa ci vuole di Lorenzo ripeto io spero cioè Chiesa muta anche con di Lorenzo capito Chiesa ragazzi anche mezzo tempo lo sa fare poi la prossima ci sono 50 partite c'è anche mondialito quindi ma stare attenti perché Chiesa è l'unico l'unico top non è questo dove Flaucio praticamente che è stato all'uomo però ripeto se fanno questo scambio se quello è molto veramente se è veramente questa notizia è vera diciamo che io ci vado per logica nel senso che è molto no perché non lo vede perché anzi con quattro metri Chiesa rigiocherebbe nel suo ruolo perché posso capire rimaneva acciughina rumine sotto allegri dice vabbè rimane quello dice allora quello lo cambiava sempre sono il primo cambio si era scocciato poi lui ha fatto un posto su Instagram fino alla fine quindi uno dice mia ma che è successo capito non so se sia vera capito ma ripeto io non lo farei mai su scambio capito a massimo visto che di Lorenzo non va ad andare mi prendo in più di Lorenzo capito però se Chiesa dovevo vendere all'estero via no no Napoli sì Napoli alle Napoli ti piacisse Napoletano buffetto piccato a Lucanza ascoltami qua vabbè ragazzi il mio parere è questo di Lorenzo va bene ma che sono tutto no compa che cosa vendi più che cosa è così tipo Chiesa ci ho pagato tipo 20 milioni ma che cazzo dice Chiesa abbiamo preso noi a 60 milioni di euro quindi non rompere non rompere cazzo vi saluto vabbè ragazzi una buona serata ditelo voi questo scambio di Chiesa di Lorenzo se lo vete fare ripeto ripetisco se fanno questa cosa è una gran cazzata ma se è vera questa cosa perché lui pensa che non c'ha più 90 milioni sulle gambe e quindi lui dice io mi prendo un altro giocatore diciamo più duttile va bene questo è il mio pensiero ripeto io abbia bisogno di 4-5 giocatori non lo so poi ho sentito dire che ci danno aggiunte ci danno 30 milioni di euro con questi a fare caccio mercato però è anche vero che poi farà così toglierà io penso a qualche giocatore che fotte quelli in giugno c'ha mercato un codice fiscale che già piglia 7 milioni già rispamano un contratto codice fiscale un contratto di Alecce Sandro un contratto dirrabbiò insomma spammabili per tutti già sono 40 milioni di euro praticamente e così faranno prenderanno capito però io ho detto sempre non so se vi ricordate secondo me tra uno tra Bremen Vlaule c'è chiesa uno parte uno parte ho detto sempre questo sì è pure vero capito però già c'è diciamo se devo sacrificare a uno ricco chiesa ma no perché chiesa perché uno si affeziona a chiesa ma diciamo quello più diciamo quello più più rotto ecco che non c'è 90 minuti sulle gambe questo volevo dire vi saluto e vi dico una buona serata ciao